Buongiorno a tutti, oggi termineremo la parte relativa alle camere e alle lenti e inizieremo ad occuparci sostanzialmente di CCD e CMOS. Bene, allora, l'ultima volta ci eravamo fermati qui, ho visto la lente di Fresnel, per cui l'argomento che dobbiamo vedere ora è quello relativo alle lenti telecentriche. Ora, le lenti telecentriche sono tipi di obiettivi che hanno una diffusione molto limitata, nel senso che su macchine fotografiche tradizionali è molto difficile trovare le lenti telecentriche, anche se ci sono delle eccezioni, adesso vedremo un'eccezione importante. Le lenti telecentriche invece sono estremamente diffuse a livello industriale. Ora, come funziona una lente telecentrica? Vediamo un piccolo esperimento, anzi scusate, un piccolo esempio. Allora, normalmente noi che cosa abbiamo? Abbiamo una lente e dopo di che arrivano, per esempio, dei raggi da infinito e questi raggi vengono focalizzati nel fuoco dalla lente. Se l'oggetto non è a infinito, per esempio, supponiamo che sia qui, la lente non riesce a piegare a sufficienza la luce e quindi l'immagine si formerà nel fuoco un po' più distante. Ok? E fin qua va bene. Ora, però, supponiamo che questi raggi, supponiamo che qui ci sia un oggetto che emette luce, ok? Se questo oggetto emette luce, questo oggetto, supponiamo per un momento che sia isotropo, emetterà luce per così, e questo in effetti andrà dritto, ok? Però emetterà luce giustamente anche per così e così via. Ok? Tuttavia, il problema è che in alcuni casi io sarei interessato ad avere soltanto la luce che procede in questa maniera. Perché? Allora, supponiamo di dover fare una misura tramite calcolatore, quindi machine vision, della dimensione esatta di questo pezzo meccanico. Vogliamo misurarne esattamente la dimensione. Supponiamo che sia relativamente piccolo e sia, per esempio, di 10 mm. Vogliamo misurare questi 10 mm. Come potremmo fare? Ma gli illuminatori li vedremo in seguito. Però, normalmente, io cosa potrei fare? Potrei mettere una sorgente di luce diffusa qui dietro, e poi qui potrei mettere una telecamera e con questa telecamera potrei andare a vedere l'ombra, per così dire, no, la silhouette, si dice, di questo oggetto sul fondo. Ora, se io sono qui, che cosa verrà fuori? Verrà fuori una cosa di questo genere. Supponiamo di... Non è molto esatto, ma partiamo di qua. Ecco, io faccio così. E poi faccio così. Ok? Che cosa significa? Significa che noi abbiamo... Non possiamo, ovviamente, vedere queste parti. E questo è inevitabile. Ok? Perché? Perché se noi siamo messi da questa parte, assolutamente questa parte non possiamo vederla. Ok? Inoltre, se questa sorgente di luce è diffusa, tende a produrre scattering, per cui, in qualche maniera, potrebbero arrivare dei fotoni anche da queste parti. Questi fotoni potrebbero colpire qui e di qui fare scattering. E quindi qui mi potrebbero arrivare dei fotoni che non c'entrano niente con quelli che io vorrei, principalmente. Ok? Ora, una cosa del genere è pressoché inevitabile, però produce problemi, perché se io voglio misurare con assoluta precisione questo oggetto, non ci riesco. Inoltre, a volte, più che misurare con assoluta precisione, serve andare a vedere se ci sono dei difetti. Per esempio, supponiamo che qui ci sia il pezzo e supponiamo che il pezzo sia stato tranciato in qualche maniera. Ora, supponiamo che sia stato tranciato in modo imperfetto, adesso io qui lo disegno un po' ingrandito, ma supponiamo che ci sia una piccola bava di metallo. Ok? Molto piccola. Anche qualche centesimo di millimetro. Ora, nel momento in cui io qui ho la mia bava di metallo, la bava di metallo si dovrebbe vedere benissimo, perché io dovrei riuscire a vederla con molta precisione, ma questo fenomeno di scattering mi crea dei problemi. E quindi io, notare che questo punto emette luce, anche questo naturalmente, no? Perché essendo luce diffusa, emette luce da tutte le parti, senza difficoltà. Quindi, stessa cosa qui. E noi prendiamo questi due qua, però ne vengono emessi molti altri, ora, gran parte di questi andranno altrove, quindi non ci daranno fastidio, ma alcuni di questi ci potrebbero dar fastidio. Inoltre, ingrandiamo un momento questa parte qui. Supponiamo che questa parte, anziché essere perfettamente ortogonale, come noi vogliamo, sia magari leggermente fatta così. di nuovo a causa di un errore di produzione. Se questo angolo qui è inferiore a questo, io non riuscirò a vederla. Quindi, anche se qui ci fosse una, diciamo, un'imperfezione, per esempio, un'altra piccola bava di metallo, io non riuscirei a vederla. Questo fa sì che non sia possibile utilizzare un obiettivo tradizionale per misure di altissima precisione. Allora, qual è l'idea? Io potrei fare una cosa di questo genere. Allora, supponiamo che qui ci sia il mio oggetto, di nuovo, che io debbo misurare con grande precisione. Ok? Allora, io potrei mettere qui dietro un illuminatore che manda esclusivamente raggi paralleli. Questo vedremo poi come fare a costruirlo. Per esempio, potrebbe essere una delle vostre tesine, se vi interessa. Ok? Supponiamo che mandi esclusivamente raggi paralleli. Quindi, non raggi in questa maniera, ma esclusivamente raggi paralleli. Questo significa che ci sarà, per esempio, un raggio che colpisce qui e qui si ferma, perché imbalza indietro, in qualche maniera, e poi ci sarà un raggio che passa proprio radente e compare di qua. E qui, stessa cosa, un raggio radente. Se qui, per esempio, ci fosse una bava di metallo, verrebbe subito intercettato, anche se ci fosse una bava di metallo qua. Ora, a questo punto, io cosa devo fare? Metto una lente qui, ok? Questi raggi colpiscono la lente, la lente di suo mestiere focalizza tutto, siccome sono raggi paralleli, focalizza tutto nel fuoco. Poi io cosa faccio? Questi raggi, siccome ovviamente continuano dritti, io qui ci metto un'altra lente e questi raggi io li riottengo paralleli e qui, se voglio, ci metto il sensore. Ok? Qui sul sensore io avrò una copia perfetta di questo oggetto, compresi i più piccoli errori e imperfezioni. Ora, però, c'è ancora un problemino. Supponiamo che il mio raggio che arriva di qua colpisca questa bava di metallo che io voglio vedere con grande precisione. Allora, quando colpisce la bava di metallo fa scattering e quindi comincia a spedire in giro fotoni da tutte le parti. Allora, alcuni di questi fotoni per esempio potrebbero colpire, per esempio prendiamo questo, ok? E potrebbe colpire in qualche modo la prima lente, ok? Allora, a questo punto cosa succede a questo fotone? succede che finirà a fuoco anche lui, perché comunque sono raggi paralleli, ma finisce a fuoco qua, ok? Dopodiché, a questo punto, lui procederà, perché ovviamente procederà e procederà inclinato, ok? Quindi, a tutti gli effetti procederà lievemente inclinato in questa maniera. ok? Perché sostanzialmente, vediamo un po', questo fa così, questo lo piega di meno di quanto piegherebbe questo, quindi questo va giustamente qua, arriva qua, sì, arriva qua così, e ok, va bene, qual è il mio problema? Il mio problema è che a questo punto questi raggi che sono stati diffusi, ok, tramite scattering, vanno a sporcarmi degli altri valori che non c'entrano niente. Quindi, in sostanza, io vorrei, io vorrei cancellare tutti i raggi che non sono paralleli all'asse ottico. Bene, allora, come faccio? Per cancellarli devo riuscire a togliere di mezzo questi raggi e per farlo devo mettere un diaframma qua, cioè un forellino sufficientemente piccolo. Se metto un forellino sufficientemente piccolo, soltanto i raggi paralleli passeranno, perché tutti quelli che non sono paralleli andranno a fuoco in un punto diverso, no? Quindi, chiaramente, per esempio, tutti quelli che sono messi per così, appunto come questo, finiranno a fuoco qui. Ok? E quindi, automaticamente, questo li riprodurrà così. Ok? Bene. Quindi, in sostanza, il mio sistema telecentrico che potrebbe essere in grado di vedere i più fini dettagli di quello che voglio e quindi rendere il sistema di machine vision estremamente più efficace è composto da un obiettivo speciale che accetta solo raggi paralleli e restituisce e restituisce solo raggi paralleli. Questo è un obiettivo che si dice doppiamente telecentrico cioè telecentrico sul lato oggetto e telecentrico sul lato sensore. Questo tipo d'obiettivo è in grado di essere utilizzato e utilizzato molto diffusamente in ambito industriale per algoritmi di machine vision e in generale computer vision. Tuttavia ha un difetto grave perché io vi ho detto se io accetto solo raggi paralleli e qui sul sensore ottengo una coppia perfetta di questo tutto bene però questo significa che io dovrei avere qui una lente grande almeno quanto l'oggetto perché se no i raggi non possono essere paralleli. Da questa parte invece io potrei anche avere in realtà un sensore più piccolo perché se queste due lunghezze focali sono diverse questo può ingrandire o rimpicciolire perché se io la lente la metto qua perché ho una lunghezza focale minore ovviamente mi risulta più piccolo e quindi ce la faccio anche con sensori più piccoli però il parallelismo è salvo però di sicuro la lente frontale deve essere grande almeno quanto l'oggetto. ora questo significa che se voi andate a guardare per esempio sul catalogo di Edmund Optics troverete delle lenti telecentriche che hanno una lente frontale per esempio di 120 mm ebbene queste queste lenti telecentriche serviranno per fotografare oggetti di un massimo di 120 mm voi capite che una lente da 120 mm è molto grande e purtroppo altrettanto costosa parliamo di lenti che costano tranquillamente 3-4 mila euro eppure questo tipo di lenti telecentriche per certe applicazioni è assolutamente indispensabile soprattutto quando si tratta di andare appunto a effettuare utilizzare la computer vision quindi più strettamente machine vision per andare a fare misure di grande precisione per le quali questi obiettivi sono assolutamente indispensabili perché se voi utilizzate un obiettivo normale e innanzitutto avete il problema per esempio delle piccole imperfezioni sulle quali il contrasto si riduce moltissimo a causa dello scattering e poi inoltre avete il problema del sottosquadro per cui queste parti semplicemente non riuscite a vederle quindi se c'è un problema qui non lo vedete ok questo è tanto maggiore quanto più grande il pezzo se io per esempio ho un pezzo che è molto grande per esempio una cosa di questo genere e poi ho un obiettivo che è messo per così chiaramente io tutto quello che ho qui semplicemente non lo vedo proprio ok e questo è naturalmente accettabile io qui potrei avere un bozzo e non lo vedo assolutamente se io uso il mio sistema telecentrico il raggio che arriva per di qua viene intercettato io di qua dal mio obiettivo telecentrico che quindi è grande quanto l'oggetto riesco a vederlo ok ora questo sistema ha un grave difetto e cioè che questo diaframma che fa passare soltanto i raggi paralleli fa passare poca luce ci sono delle soluzioni costruttive ma in generale gli obiettivi telecentrici non sono particolarmente facili da maneggiare tantomeno facili da progettare eccetera eccetera ok e soprattutto sono ingombranti perché questa lente frontale è molto grande c'è ancora un problema da risolvere come faccio a generare della luce parallela ok lo vedremo quando parleremo di illuminatori ma si può usare un illuminatore telecentrico cioè una lente un insieme di lenti che produca un'illuminazione parallela in realtà è più semplice di quanto si possa pensare utilizzando un illuminatore raggi paralleli e un obiettivo telecentrico si riescono a ottenere risultati in certi casi eccellenti ok bene l'obiettivo telecentrico può essere telecentrico solo lato oggetto oppure anche lato pellicola ok andiamo quindi a vedere di nuovo le nostre slide quindi vedete che la le lenti insomma gli obiettivi normalmente producono una proiezione di tipo prospettico ovviamente quella che abbiamo visto lì quindi se un oggetto è più vicino a una lente più vicino all'obiettivo produrrà un'immagine più grande e questo produce una distorsione prospettica ok volendo si potrebbe usare anche un pinolce un foro stenopeico però chiaramente non riuscirebbe a far passare abbastanza luce tra l'altro giusto per curiosità mi è venuto in mente un altro esempio che effettivamente è molto calzante supponete per un momento penso che tutti voi sappiate che non si fanno non si scattano mai le foto di ritratto con il grandangolare ok allora supponiamo di avere una testa ok molto ben disegnata con un naso tipo pinocchio ok qui ci sono gli occhi bene allora supponiamo di utilizzare un teleobiettivo noi ci mettiamo molto lontano adesso qui non è abbastanza lontano vabbè ora se ci mettiamo molto lontani che cosa succede succede che il rapporto di ingrandimento cioè l'M che viene calcolato sulla punta del naso e sugli occhi è grosso modo uguale perché noi siamo molto lontani ok se l'M è grosso modo uguale l'ingrandimento sarà uguale e pertanto non ci sarà una sproporzione tra le dimensioni del naso e dell'occhio nel senso che il naso verrà riprodotto esattamente come gli occhi e cioè esattamente quanto è grande poi è chiaro se la persona ha il naso grande e non c'è niente da fare ok se io ho il teleobiettivo l'M è appunto dicevo abbastanza uguale sia per gli occhi che per il naso e siccome il teleobiettivo naturalmente è un campo inquadrato piccolo io riuscirò ad ottenere un'inquadratura del mio viso per fare il mio ritratto ok in termini fotografici questo è chiamato faccione nel senso che io fotografo solo la faccia io ci riuscirò perché sono molto lontano il mio teleobiettivo ok essendo che sono molto lontano i due M sono molto simili non c'è problema allora supponiamo di non avere il teleobiettivo supponiamo di fare la fotografia molto da vicino allora oppure supponiamo anche di avere solo un grandangolare a disposizione io mi metto molto vicino ok e questa volta devo usare un grandangolare che ha quindi un campo inquadrato molto maggiore ok allora il campo inquadrato è lo stesso nel senso che io quando poi stampo la fotografia la dimensione della faccia è la stessa però se voi andate a rifare i conti con quelle formule scoprirete che l'M per la punta del naso a questo punto è molto diverso dalla M degli occhi e in particolar modo l'ingrandimento per il naso è maggiore ok quindi che cosa succederà succederà che sul piano focale il naso comparirà in proporzione più grande degli occhi quindi anche se la persona ha un naso normale il naso sembrerà più grande questo è il motivo per cui se voi vi scattate un selfie chiamiamolo così cioè un autoscatto con il cellulare e vi mettete molto vicini avrete una deformazione dei lineamenti questo è anche il motivo per cui vi sono molti cellulari moderni che hanno degli speciali tra virgolette programmi per gestire il ritratto perché voi capite che il nasone non è in generale una caratteristica che viene gradita da chi viene fotografato ok questo era soltanto per dirvi che il rapporto di ingrandimento che abbiamo visto a suo tempo ha anche delle ricadute molto pratiche benissimo ah naturalmente gli obiettivi telecentrici hanno il grosso vantaggio vedete qui l'obiettivo telecentrico ha il vantaggio che il rapporto di ingrandimento è sempre lo stesso ed è in particolar modo legato a queste due lunghezze focali perché questi raggi sono tutti paralleli è come se noi avessimo un teleobiettivo usato da estremamente lontano perché se io sono estremamente estremamente lontano questi raggi sono tutti paralleli e l'M della punta del naso è perfettamente uguale all'M degli occhi e quindi io in effetti chi di voi è pratico di fotografia saprà che si dice che i teleobiettivi appiattiscono la prospettiva quindi schiacciano la prospettiva nel caso dei ritratti molto spesso schiacciare la prospettiva è quello che si desidera soprattutto se magari la persona ha un naso un po' importante mentre invece esaltare la prospettiva si fa appunto con i grandangolari e viene fatto quando uno ne ha bisogno quindi per esempio non lo so avrete sicuramente notato le fotografie delle stanze degli alberghi che magari sono dei bugigattoli ma sono stati fotografati con un potente grandangolare e anche se sono dei bugigattoli sembrano delle piazze d'armi poi uno ci entra dentro e dice ma come ma nella fotografia sembrava così spazioso proprio perché è un problema di prospettiva ok quindi l'obiettivo telecentrico ha il grosso vantaggio di avere dei raggi strettamente paralleli ora un obiettivo telecentrico dal lato dell'oggetto è in grado di fotografare quindi di produrre immagini degli oggetti a differenti distanze nella stessa posizione quindi anche se l'oggetto è a distanze differenti l'oggetto verrà quindi punti diversi verranno messi nello stesso punto ok quindi i raggi di luce sul lato oggetto sono tutti paralleli all'asse ottico notate che questo non significa che vi sia profondità di campo infinita tutt'altro la profondità di campo è esattamente la solita nel senso che gli oggetti possono essere fuori fuoco semplicemente la loro dimensione non dipende dalla distanza ok quindi ancora una volta se noi vogliamo fare l'esempio del naso se io utilizzassi per scattare il ritratto un obiettivo telecentrico con una lente molto grande abbastanza grande da coprire tutto il volto io avrei la sicurezza di avere il rapporto d'aspetto sempre perfettamente uguale perché prenderei una fotografia a raggi completamente paralleli dopodiché il problema appunto come dicevo prima è che la lente frontale deve essere più grande dell'oggetto questo naturalmente è molto costoso e non solo è molto costoso in certi casi diventa proprio impossibile nel senso che in ambito industriale molto spesso si lavora con pezzi piccoli per esempio da misurare in qualche maniera è chiaro che se il pezzo è piccolo il sistema telecentrico funziona bene ma se io dovessi misurare un pezzo da che ne so 30 cm non posso più usare il sistema telecentrico perché posso usare una lente da 30 cm sarebbe estremamente costoso allora in questi casi come si fa dovendo avere una precisione assoluta perché il sistema telecentrico lo garantisce si usa un obiettivo telecentrico con un'apertura molto più piccola e dopo di che si va a inquadrare vari punti dell'oggetto in modo tale da sfruttare vari punti indipendentemente però non si riesce mai ad avere un'immagine complessiva ora le lenti telecentriche doppie quindi bilaterali sono quelle che ho disegnato prima cioè quelle in cui anche dal lato sensore si ha una lente telecentrica cioè i raggi sono paralleli anche dal lato sensore ok ora questa cosa che sembrerebbe mandiamo pure tutto schermo questa cosa che sembrerebbe un po' particolare questo ok in realtà è molto più importante di quanto non sembri perché i sensori CCD e CMOS non gradiscono affatto ricevere fotoni con un angolo rispetto all'asse ottico ok non vi faccio vedere allora supponiamo che questo sia il vostro sensore ok quindi un CMOS per esempio ora se io ho un obiettivo di vecchia progettazione un grandangolare ok e questo grandangolare riceve luce in questo modo la luce verrà riprodotta in quest'altra maniera ok e qui ci sarà un angolo di incidenza ora se il fotone incide così viene riconosciuto in una maniera se incide così in un'altra cosa vuol dire in un'altra significa che se io mando 100 fotoni qui magari me ne prende 60 70 qui me ne prende 30 40 quindi me ne perdo un po' ok allora questo diventa un grosso problema ed è un problema tipico dei sensori digitali perché alla pellicola non gliene importa quasi nulla a parte il discorso del coseno alla quarta che abbiamo visto la volta scorsa per il resto non è un problema però il problema è che ormai quasi tutte le macchine fotografiche sono anzi direi praticamente tutte le macchine fotografiche sono digitali allora qual è la soluzione la soluzione è o rendo paralleli i raggi sul lato posteriore ok prima soluzione oppure se io qui ho il mio sensore prendo le buche di potenziale e le inclino ok in modo tale che i raggi arrivino sempre dritti ok ora voi direte questa è una soluzione un po' strana ebbene questa soluzione è stata adottata da Leica perché Leica ha una tutta una grande quantità di obiettivi cosiddetti legacy che hanno ampi angoli perché sono stati progettati per la pellicola e siccome loro vogliono che questi obiettivi continuino a funzionare hanno dovuto costruire dei sensori apposta quest'altra soluzione invece in cui noi abbiamo il nostro sensore e abbiamo tutti i raggi che arrivano paralleli e la soluzione per esempio è adottata da Olympus nel sistema micro 4 terzi loro hanno progettato gli obiettivi nuovi del nuovo sistema in modo tale che fossero telecentrici o quasi insomma potenzialmente almeno parzialmente telecentrici dal lato del sensore in modo tale da facilitare diciamo l'arrivo dei fotoni purtroppo questa cosa non funziona sempre perché io per esempio sulla Olympus posso anche montare un obiettivo di questo tipo e chiaramente non funziona più bene però finché adopero gli obiettivi tra virgolette della casa sono a posto ok quindi questo significa che gli obiettivi telecentrici che sono così diciamo strani sono in realtà molto meno strani di quanto si possa pensare in generale però ripeto gli obiettivi telecentrici sono oggetti tipicamente per uso industriale quindi se vi capiterà di occuparvi di computer vision a livello industriale li vedrete al 100% ora volevo farvi vedere un esempio di obiettivo telecentrico in azione in modo tale da potervi mostrare il risultato quindi tanto per cominciare vi faccio vedere questa slide che avevo preparato a suo tempo allora vedete che noi qui abbiamo questo è un è un connettore se non ricordo male era un connettore IDE quelli classici degli hard disk quindi da 40 pin ok ora il connettore è stato fotografato dall'alto qui è stato fotografato con un obiettivo parzialmente telecentrico in realtà telecentrico ma non è così ben telecentrico perché era un obiettivo tutto sommato economico gli obiettivi telecentrici sono molto costosi diciamo 1500 euro come minimo questo era diciamo un entry level chiamiamolo così ok però comunque è un obiettivo telecentrico e invece di qua è stato fotografato come un obiettivo normale ok non telecentrico ci sono alcune differenze tra i due obiettivi perché questo è un 55 mm e questo è un 25 mm quindi è chiaro che c'è già una differenza questo è più sul teleobiettivo di questo però ciò non toglie che l'effetto che l'effetto è interessante adesso vi faccio vedere allora guardate qua allora allora e ovviamente premetto che il connettore è ovviamente lo stesso allora i pin centrali del connettore vedete che voi li vedete praticamente come se fosse telecentrico il sistema ok quindi vedete lo vedete ben quadrato questa è ovviamente la polvere il passo tra uno e l'altro è 2,54 mm perché è il classico decimo di pollice ok ecco se voi invece vi spostate dal centro e vi allontanate vedete che il pin non è più un quadrato nel senso che lo state vedendo in prospettiva come se fosse sostanzialmente un un gattacielo ok e quindi vedete che in questo caso vedete il il lato sinistro del pin e del lato destro non avete nessun tipo di informazione e in questo caso avete solo il lato destro del pin e dell'altro lato che c'è di qua non vedete nulla e poi la stessa cosa per il fascio diciamo per il livello successivo se voi aveste una cosa quadrata vi rendereste conto che a un certo punto si comincia a vedere questo lato e ovviamente questi due scompaiono quindi questa è una classica deformazione prospettica ora guardiamo la stessa cosa vista con l'obiettivo telecentrico allora come potete vedere l'ingrandimento è maggiore vedete che qui vedete 4 pin mentre qui ne vedete vabbè 5 tutto sommato non c'è una grande differenza e sono sempre gli stessi ok e però qui continuate a vedere la struttura quadrata ok vedete che continuate a vedere la struttura quadrata anche ai bordi quindi avete l'informazione come vi ho raccontato prima molto più precisa allora guardando queste immagini si vedono subito alcune cose la prima è che questo se io dovessi usare per un sistema di machine vision questo obiettivo e per esempio il sistema di machine vision dovesse andare a calcolare facciamo un esempio quant'è a che distanza sono posizionati i pin del connettore per esempio supponiamo di dover realizzare un sistema industriale che effettua un controllo di processo su questi connettori una volta realizzati no? perché io voglio naturalmente vedere che questi per esempio non ci sia un pin storto tanto per dare l'idea ok? ora in questo caso io non posso assolutamente dire che questo è un pin dritto o per meglio dire è sicuramente dritto però come potete vedere sembra storto e anche questo sembra storto mentre questo sembra dritto ok? inoltre se io vado a misurare questo da qui a qui sembra più distante che da qui a qui quindi questo significa che non riesco a fare le misure quindi un obiettivo non telecentrico per questo scopo sarebbe assolutamente inadatto per quello che voglio fare notate che per riuscire a ottenere questo risultato io mi sono messo circa 10 cm di distanza dalla lente e ho usato dei tubi di estensione ok? cioè dei dei tubi posizionati tra vuoti no? tra la lente e l'attacco in modo tale da riuscire a mettere a fuoco più da vicino ok? invece in questo caso siccome questo è più teleobiettivo perché è un 55 mm mi sono posizionato 15 cm perché ho ottenuto un'inquadratura grosso modo simile tuttavia notate un'altra cosa importante vedete che la la profondità di campo qui è veramente poca nel senso che io qua vedo abbastanza bene la polvere ok? che c'è sotto notate che sono a f8 e qui a f11 quindi anche più chiuso e il fondo non lo vedo assolutamente vedo soltanto la punta vedo più dettagli sulla punta del del pin ma non vedo niente sotto ok? quindi questo significa che la profondità di campo qui è una profondità di campo del tutto ragionevole per un obiettivo di quel genere quindi il fatto che la lente sia telecentrica non implica nulla di speciale sulla profondità di campo implica però che un oggetto di dimensione per esempio un centimetro rimane sul piano sensore di un centimetro ovviamente con l'ingannimento opportuno sia che sia molto lontano sia che sia più vicino proprio perché la lente telecentrica accetta soltanto raggi paralleli quindi il motivo per cui questo obiettivo telecentrico ha così poca profondità di campo è semplicemente perché ha 55 mm di lunghezza focale e come ricorderete dalla formula il 55 mm non centimetri ovviamente scusate il 55 mm è quello che comanda di più perché va col quadrato ok? quindi diciamo che il problema principale è la lunghezza focale ok? bene a questo punto vi faccio vedere allora l'esempio perché io ho portato cioè sto vi ho montato un piccolo esperimento con questo stesso obiettivo eccolo qua allora innanzitutto questo è l'obiettivo poi ve lo mostro anche però al momento è montato sul treppiede siccome non è sempre facilissimo montarli questi oggetti dopo lo smonto ve lo mostro però sul momento ve lo lascio così allora come potete vedere ha un suo costo non banale ecco guardate le caratteristiche allora vedete che c'è scritto che l'ingrandimento va da 0,5 a 0,4 quindi da un mezzo ok? da 0,5 a 0,4 quello è l'ingrandimento e il range di ingrandimenti all'interno del quale si ha la telecentricità ok? poi il diaframma vado da F2 a 8,32 per aumentare molto la profondità di campo è un C-mount quindi classico la profondità di campo è questa ma adesso è tutto da vedersi ok? il campo di vista con un sensore da mezzo pollice è chiaro che se io mi metto in posizione non telecentrica posso anche inquadrare una montagna a distanza ma in posizione telecentrica con mezzo pollice di sensore vado da 12,8 a 16 mm con un sensore da mezzo pollice perché se guardate qua il massimo formato del sensore è due terzi di pollice e chiaro il punto se ne vede di più ok? la lunghezza focale è di 55 mm è anche piuttosto pesante come obiettivo un altro effetto collaterale perché se voi costruite un sistema di visione industriale vi fa piacere che sia piccolo leggero economico e un obiettivo telecentrico non è né piccolo né leggero né economico perché deve essere largo almeno come un oggetto che fotografate tipicamente lungo e pesante e quindi automaticamente è ingombrante e quindi all'interno di una macchina di produzione industriale questo non è mai una bella cosa perché tende a produrre problemi la distanza di lavoro è circa 15 cm c'è un piccolo range di variabilità ma non è così grande la distorsione è molto buona quindi questo significa che ovviamente è un obiettivo che induce pochissima distorsione perché vi ricordo che la distorsione è quella è un'aberrazione che modifica la forma degli oggetti e naturalmente da una lente telecentrico ci si aspetta ottime prestazioni perché altrimenti non sarebbe non andrebbe bene questo è il il passo del filtro del portafiltri se voi volete aggiungere dei filtri ecco vedete c'è scritto PMAG non cioè l'ingrandimento non telecentrico si va da 0,5 a 0 0 significa che io sto fotografando una montagna ok telecentrico da 0,5 a 0,4 quindi devo fare molta attenzione devo mettermi esattamente la distanza giusta ok la distanza di lavoro nel caso di non telecentrico va da 127 a infinito appunto io posso fotografare la montagna telecentrico da 127 a 158 che era appunto già questo qua ok dopodiché però andiamo a vedere ancora scusate quest'altro ecco ecco qua ecco allora guardate qua questo è sostanzialmente un estratto del datasheet del sistema ok e da qua si possono vedere alcune cose interessanti notate che volendo si possono anche montare dei converter cioè degli aggiuntivi ottici che vi permettono di funzionare con lunghezza focale raddoppiata o dimezzata o quasi dimezzata vedete 0,75 comunque questo serve per adattarsi a casi particolari però guardiamo questo che è la cosa interessante vedete che siccome questo è un obiettivo telecentrico ovviamente viene utilizzato per fare effettuare riprese ok allora guardate qui questo è l'MTF ok allora vedete che data la percentuale di contrasto quindi dato un'MTF pari a 1 a risoluzione 0 ok diciamo 1 questo è l'MTF va giù ovviamente ok va giù il blu rappresenta in asse questo rappresenta 2 mm fuori dall'asse questo 4 mm fuori dall'asse voi capite che fuori dall'asse man mano degradano le prestazioni e questo è l'MTF corrispondente con i cicli al millimetro line per per millimetro e vedete che qui grosso modo vedete viene calcolato il'MTF 20% e viene calcolato sostanzialmente 46 quindi circa 90 linee al millimetro 90 linee al millimetro sull'immagine cioè sul sensore ok sul sensore qui sopra c'è una scala del tutto uguale con su scritto object resolution di solito nei grafici noi non avevamo mai visto nulla del genere e questo object resolution se ci fate caso il numero è esattamente la metà perché questo è 23 e questo è 46 perché la metà perché questo grafico è stato fatto con ingannimento 05 quindi questo significa che se io ho un oggetto grande un centimetro ok sul sensore verrà di mezzo centimetro ok per cui è chiaro che la risoluzione che ho sul sensore verrà poi dimezzata sull'oggetto comunque nel complesso vedete che questo MTF è buono ok qui mancano alcuni dettagli per esempio bisognerebbe capire meglio se funziona con luce policromatica così oppure no ma questi sono insomma nel complesso un buon obiettivo ok questo è un grafico che fino adesso non avevamo mai visto e riguarda la profondità di campo ok ricorderete che per la profondità di campo c'era quella formula però quella formula va bene per carità dà un'idea molto chiara della cosa però è approssimata questo invece è un grafico reale e il grafico reale della profondità di campo risente anche della diffrazione ok mentre quella formula ovviamente non ne tiene conto in modo preciso allora guardate qui vedete lui va a prendere l'MTF e dice se sono nel punto esatto di fuoco l'MTF è circa 1 ok poi man mano che mi allontano dal punto di fuoco siccome qui siamo a 0,5 di ingrandimento la distribuzione della della messa a fuoco è abbastanza simile davanti e dietro ok e quindi sto inquadrando un oggetto a 11 line per quindi a 22 linee al millimetro e questo è l'MTF relativo ok quindi questo significa che vedete che lui calcola un 6,4 millimetri di profondità di campo depth of field e quindi meno 3 più 3 però attenzione lui calcola la profondità di campo andando a considerare un'MTF risultante di 0,1 ok che è veramente pochissimo quindi questo significa che questa profondità di campo è un po' esagerata ok comunque questa l'abbiamo già vista nella volta precedente quando abbiamo inquadrato la mira specifica della profondità di campo l'obiettivo era lo stesso e quindi avrete visto che la profondità di campo in realtà è molto bassa ok molto 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 bassa bene allora adesso che abbiamo visto questo volevo ancora solo vedere qui ecco ancora solo questa cosa vedete che questa è la descrizione quindi dice che le lenti telecentriche producono un ingrandimento costante su un range di distanze di lavoro che è esattamente l'opposto di quello che fa il grandangolare quando noi facciamo la fotografia facciamo un ritratto a una persona perché l'ingrandimento su un range di distanze di lavoro è fortemente diverso tra la punta del naso e gli occhi ed è questo che fa sì che il naso diventi particolarmente vistoso se io avessi un obiettivo telecentrico non succederebbe siccome l'obiettivo telecentrico per scattare un ritratto mi sembra un filino eccessivo di solito si usa un teleobiettivo che diciamo che non è proprio un obiettivo telecentrico però per quello scopo va benissimo ecco qui vedete che vi dice che io posso muovermi di più o meno 12,5 mm su e giù ok prima che si formi un errore dell'1% sulla scala dell'immagine quindi questo vi dice l'entità dell'errore cioè quanto è telecentrico perché ovviamente la telecentricità perfetta non esiste ok e infatti lo dice qua perché normalmente vedete lui dice che questo obiettivo che peraltro vi dicevo è abbastanza economico ok permette più o meno 12,5 mm di movimento avanti e indietro prima che si formi un errore nella scala dell'immagine dell'1% mentre le lenti convenzionali per lo stesso tipo di errore dell'1% permettono normalmente un movimento solo del più o meno 1,7 quindi vedete che se io dovessi fotografare la persona io avrei 2,5 cm di spazio tra la punta del naso e gli occhi forse ce la faccio mentre invece con l'obiettivo normale avrei solo 1,7 anzi per 2 3,4 che ovviamente sono insufficienti ok quindi questo tipo di lente viene realizzato esplicitamente per misure su oggetti tridimensionali con piccole variazioni di altezza poi c'è un altro problema e cioè che lui lo dice anche qua e cioè che è necessario effettuare il montaggio su un treppiede in modo estremamente preciso inoltre sono necessari degli illuminatori speciali ok bene allora direi che possiamo procedere e quindi andiamo a vedere il nostro obiettivo in funzione allora vedete qui questa è la nostra inquadratura per produrre degli oggetti da misurare niente di meglio di un pezzo come potete vedere Lego perché voi sapete benissimo che il Lego è famoso perché ha dei pezzi con delle tolleranze dimensionali eccezionali cioè se voi prendete dei Lego di quando io ero bambino di 40 anni fa si innestano ancora perfettamente sui Lego moderni quindi vuol dire che hanno dei controlli di qualità dimensionale eccezionale e questo invece è un giochino della Ferrero quelli che ci sono negli ovetti ok tutti e due pezzi che richiedono un controllo dimensionale molto accurato adesso su questi non credo che facciano nessun controllo speciale perché se anche la sorpresina non funziona perfettamente non morirà nessuno su questi sono sicuro che facciano controlli perché voi capite che se voi comprate la scatola di Lego e poi per qualche motivo non si innestano i pezzi vi arrabiate ok ora ci mettiamo qua e andiamo a vediamo un po' la telecamera si telecamera funziona andiamo a mettere il pezzo sotto eccoci qua allora un attimo solo allora ancora solo un attimo perché qui devo capire eccolo qui aspettate ancora un attimo allora vedete che qui l'ingrandimento è molto intenso perché allora eccoci qua bene allora mettiamo innanzitutto fuoco nel modo migliore possibile non è banalissimo allora aperto completamente il diaframma aspettiamo che si stabilizzi il guadagno automatico eccolo lì guardate c'è che mi è sfuggito eccolo lì ce l'ho guardate aspettate vediamo se riesco a mostrarlo impongo che l'abbiate già visto ma allora eccolo lì vedete qui vedete quella piccola bavetta ok potrebbe essere polvere ok potrebbe essere qualsiasi cosa la nugine quello che volete però se come potete vedere si vede perfettamente grazie al fatto che l'obiettivo è telecentrico ok in realtà qui siamo in condizioni di illuminazione assolutamente non ideali perché è l'illuminazione laterale che assolutamente non è quello che che uno potrebbe volere allora io adesso invece sposto eccolo qua passiamo quindi al pezzo di lego eccolo qua ok adesso rifacciamo la messa a fuoco notate vedete questo questo qui è il libro la copertina del libro vedete se io mi metto vedete è il il retino tipografico del libro il libro la copertina che ho usato come come rialzo è tutto blu ma è fatto ovviamente con un retino tipografico potete ovviamente vederlo qua qui si vede cosa sto facendo ora io modifico la messa a fuoco adesso poi smonterò il tutto e vi faccio vedere come funziona cioè come è fatto ecco qua allora un attimo solo perché qui come potete immaginare non è esattamente banale la faccenda ecco qui allora la messa a fuoco non è perfetta però è qui sopra infatti vedete qui c'è la nugine qualcosa ok adesso notate che siamo a f2.8 io adesso aumenterò la profondità di campo chiudendo il diaframma ecco qui aspettiamo che il guadagno automatico faccia il suo mestiere per riprendere la situazione e magari gli diamo anche un aiuto usando una torcia ecco qui vedete allora come potete vedere adesso aspettate mettiamoci di qua la risposta non è velocissima perché fa solo 4-5 frame al secondo vedete lì c'è deve essere della lanugine qualcosa perché è piccolissimo e vedete c'è anche della polvere ok notate che in questo caso l'illuminazione è radente quindi permette di vedere i più piccoli dettagli parliamo di dettagli veramente molto molto piccoli ora se ci fate caso adesso io proverò a muovere il pezzo verso destra vedete e vedete che voi non riuscite a vedere il lato ok perché lavora completamente in in telecentrico in questo momento siamo a 0,45 di rapporto di ingrandimento l'ho letto sulla ghiera adesso io mi porto in là da questa parte vedete che anche se illumino di lato vedete che continuo a non vedere il bordo ok poi mi porto in qua giusto per vedere se riesco a vedere il bordo vedete vedete che c'è una buona quantità di polvere sul pezzo l'ho preso dal mobile allora se voi andate a vedere qua allora vedete questa è un'ombra che non ci dovrebbe essere ok perché naturalmente io qui non sto usando luce adeguata ok però nel complesso il sistema funziona regolarmente notate che io qui riesco a vedere parzialmente vedete vedete questo non riesco a capire se è un riflesso sul libro perché il libro è lucido sì è un riflesso sarebbe proprio un riflesso ok tenete anche conto che per adesso io qui riapro il diaframma così c'è un po' più di luce ok ovviamente perdo la messa a fuoco nel senso che la profondità di campo è ridottissima ora il quello che volevo farvi anche notare è che qui adesso non riuscite a vederlo ma il setup complessivo adesso qui è semplicemente montato sul treppiede che io uso per la webcam per mostrare le cose eppure il setup insomma non è così buono come uno potrebbe sperare e quindi anche il fatto di essere perfettamente ortogonale al pezzo richiede per esempio che il supporto sia perfettamente ortogonale vedete io qua faccio abbastanza poca fatica a creare degli spostamenti a causa del fatto che il libro non è un buon supporto ok prima cosa seconda cosa la telecamera non necessariamente perfettamente verticale vi ricordo anche un piccolo trucchetto che magari vi potrebbe servire se doveste montare dei sistemi del genere se voi volete essere ragionevolmente sicuri che l'asse dell'obiettivo sia ortogonale al piano se avete uno specchio sufficientemente piano mettete lo specchio qui e poi inquadrate con con l'obiettivo quando riuscirete a vedere la macchina fotografica cioè la telecamera inquadrata nello specchio al centro dello specchio allora vorrà dire che voi vi siete perfettamente allineati questo a patto che lo specchio sia perfettamente parallelo al piano naturalmente perché ovviamente anche quello è importante quindi se per esempio voi come sfondo aveste qualcosa di sufficientemente lucido per esempio un pezzo di vetro sarebbe già perfetto perché potreste vedere il vostro riflesso ok questa è una tecnica che si usa per allineare grossolanamente perché poi ovviamente se uno vuole allineare in modo più preciso deve per forza fare delle prove delle misure di precisione bene allora direi che con questo la parte sul telecentrico direi che l'abbiamo esaurito ok io adesso smonto ah no volevo ancora farvi vedere l'obiettivo ok allora io adesso lo smonto allora un attimo solo un attimo un attimo di pazienza ancora un attimo ok ok ecco qua allora questa qui la telecamera la telecamera la possiamo disattivare non ci serve più allora questa è la telecamera che abbiamo già visto in più di un'occasione ok ah un altro problema questo obiettivo pesa 300 grammi vedete che qui questa telecamera è montata con un attacco per treppiede montato qui sopra questa scatolettina pesa appena 29 grammi allora qui ci va ancora bene perché è messo in verticale ma se fosse quindi tutto sommato deve reggere per trazione ce la dovrebbe fare ma se io la metto così rischio di torcere l'attacco qua perché questo è molto più pesante di questo ok quindi purtroppo è un problema perché questo è uno dei tanti problemi degli obiettivi telecentrici essendo molto grandi rischiano di avere dei problemi di peso molto significativi ok bene allora vi stavo dicendo a parte la telecamera che abbiamo già visto ampiamente questo è l'obiettivo allora vedete che ha una lente bella grossa perché naturalmente è telecentrico e peraltro è un 55 mm f2.8 ok bene allora se voi andate a guardare qui c'è il allora aspettate facciamo il lavoro come si deve smonto e rimetto il suo obiettivo non bisogna mai lasciare obiettivi telecamere senza obiettivi perché si rovinano si riempiono di polvere e poi sono guai grossi vedete quello che vi dicevo vedete come riflette quello in realtà non è nemmeno il sensore quello è il filtro di protezione però il risultato è esattamente lo stesso ok quindi la telecamera è questa allora questo è il nostro obiettivo vedete che qui c'è il mio diaframma come sempre questo è un diaframma molto ben realizzato dal punto di vista meccanico perché vedete va da f22 a f32 e anche c c sta per chiuso vedete che è completamente chiuso dopodiché man mano si apre notate che dal punto di vista meccanico costruttivo è ben realizzato ma dal punto di vista tecnico è scadente perché ha solo tre lamelle ok tre lamelle sono troppo poche qui ha la sua vitina di blocco dopodiché vedete qui ho anche qui la mia vita di blocco poi qui ho un minimo di messa a fuoco ma proprio un minimo che mi serve proprio per andare su e giù di pochissimo ok e poi in realtà il grosso lo faccio qui e se ci fate caso qui io non ho metri ho m qui c'è m ok l'm che abbiamo usato nelle formule che è il p mag che c'è lì nel datasheet quindi vedete qui è 0.5 qui è 0.4 0 significa che ovviamente siete a infinito cioè state inquadrando una montagna lontana quindi questo significa che il datasheet vi dice che il vostro obiettivo è telecentrico entro l'1% quindi altre al massimo il fattore di un 1% tra m05 e m04 quando abbiamo fatto noi la prova prima con il pezzetto di Lego eravamo qua ok ora il problema è che se io mi metto in verticale lui tende ad allungarsi e quindi ho dovuto bloccarlo e quindi la cosa rende il tutto molto difficile ok quindi io adesso direi che qua questo vedete questi questi colori sono dovuti al trattamento antiriflesso perché il trattamento antiriflesso ovviamente ha come scopo quello di bloccare la luce e impedire i riflessi quindi ridurre i riflessi flare l'abbiamo visto l'ultima volta ok quindi questo lo chiudiamo così questo vedete questo è l'attacco passo C naturalmente quindi noi semplicemente lo abitiamo e siamo a posto bene ultimissima cosa se ci fate caso qua vedete qua ci sono delle strane forme triangolari ora vi ho detto poco fa che il diaframma l'abbiamo visto che il diaframma di questo obiettivo ha solo tre lamelle e quelli sono dei punti di luce tipicamente sarà polvere che viene diciamo portata fuori fuoco con la forma del triangolo quello si chiama in linguaggio fotografico bokeh e voi capite che se voi vendeste un obiettivo per ritratto con un bokeh del genere non ne vendete molti perché naturalmente non è tanto bello prendere i punti fuori fuoco e farlo diventare i triangoli ma questo è un sistema per foto industriale per cui francamente del bokeh non importa niente a nessuno bene allora andiamo avanti abbiamo ancora alcune cose da fare allora abbiamo visto quindi le lenti telecentriche che servono per scattare mantenendo intatto il rapporto d'aspetto anche in condizioni più difficili poi questo riguarda invece quello che c'è scritto qua riguarda una cosa un po' diversa e cioè che cos'è l'aspetto il rapporto d'aspetto normalmente il rapporto d'aspetto può essere per esempio 4 terzi normalmente questi sensori sono 4 terzi oppure può essere 3 mezzi per esempio la vecchia pellicola ha 3 mezzi 24 per 36 mm quindi 3 mezzi o 2 terzi come preferite se voi volete incrementare il campo di vista FOV field of view dovete ovviamente prendere una lunghezza focale più corta vi ricordo che la lunghezza focale che fornisce un field of view paragonabile a quello dell'occhio umano è grossomodo la diagonale del formato stesso però voi tutti sapete che nel caso del cinema se voi andate al cinema il telo di proiezione è molto più largo che alto ok cioè incrementato solo in orizzontale questo per dare agli spettatori l'impressione di trovarsi nel posto ovviamente ebbene per riuscire a fare le riprese questo era vero soprattutto in analogico francamente non so se lo faccio ancora in digitale può darsi di sì venivano usate forse vengono ancora usate adesso delle lenti anamorfiche cioè delle lenti che hanno sostanzialmente due lunghezze focali una lunga l'orizzontale e una lunga la verticale quindi in questo modo cosa succede? succede che sul sensore il sensore per esempio è un 4 terzi o un 3 mezzi e avrà l'immagine nel suo formato ma avrà ripreso un'immagine più lunga ok quando voi riproiettate dovete riproiettare ovviamente con un altro obiettivo anamorfico in modo tale da allargare l'immagine e ridare la stessa lo stesso lo stesso aspetto ok bene adesso possiamo sì abbiamo ancora prima di iniziare veramente con i ccd abbiamo ancora un paio di cose interessanti che potranno soprattutto la seconda interesserà a chi si occupa di cinema anche qui ho da farvi vedere qualcosa che spero vi interesserà ebbene però prima bisogna finire cioè vorrei terminare il discorso delle aberrazioni e di tutti i vari disturbi con questa slide sulla percezione ok quindi questo significa che quando voi guardate qualcosa scattate una fotografia eccetera eccetera dovete passare attraverso tutta una lunga catena di problemi cioè di potenziali fonti di errore ok quindi partendo da un oggetto reale fino alla percezione quindi dal nostro il nostro cervello abbiamo molti passaggi vedete qui l'ho preso da un libro che si occupa di test abbiamo innanzitutto l'atmosfera quindi con la turbolenza la turbolenza vi ricordo che provoca tutti quei problemi che abbiamo visto l'assorbimento che quindi per esempio può essere magari contrastato parzialmente utilizzando filtri rossi eccetera eccetera però non necessariamente funziona così bene poi abbiamo l'apertura dell'obiettivo quindi il diametro aperto dell'obiettivo che è un filtro passabasso come abbiamo visto secondo la teoria di Abbe poi tutte le aberrazioni ok poi abbiamo l'allineamento delle lenti e le ostruzioni quindi potrebbero anche esserci dei problemi di allineamento meccanici le ostruzioni quindi eventuali problemi dovuti all'economia costruttiva poi l'assorbimento delle lenti perché le lenti stesse come abbiamo visto assorbono un po' infatti abbiamo visto che c'è F e T proprio per indicare questo soprattutto nelle lenti cinematografiche e poi le riflessioni tra le lenti e le riflessioni tra le lenti abbiamo visto collegate per esempio al flare poi la cosiddetta vignettatura la vignettatura si ha quando ai bordi c'è meno luce non collegata alla coseno alla quarta coseno alla quarta è un problema geometrico la vignettatura è legata di solito al fatto che per vari motivi la lente frontale è più piccola del necessario magari anche solo per motivi di ingombro poi la focheggiatura perché come abbiamo visto focheggiare è estremamente difficile abbiamo visto molto bene con l'obiettivo telecentrico come fosse estremamente difficoltoso tenere una messa a fuoco valida tutti i problemi relativi all'occhio quindi l'occhio a sua volta ha delle aberrazioni ha dello scattering ha la sua assorbimento naturalmente ha o può avere purtroppo dei danni e per finire gli errori di processamento mentale nel senso che voi sapete tutti che ci sono per così dire dei giochi dei trucchi che si possono fare per prendere in giro il nostro cervello e sono un po' particolari ma funzionano e quindi anche quelli vanno considerati è chiaro che nel momento in cui noi invece ci occupiamo di sistemi di computer vision quindi di machine vision il problema mentale non c'è perché il risultato finale è diciamo esente bene allora diciamo che questo abbiamo terminato procediamo così dopo possiamo iniziare con i ccd allora due parole sull'aspetto per così dire cinematografico allora le moderne in realtà questa slide non è così moderna comunque le moderne cineprese per cinematografia per esempio Harry che è una casa famosa notare che come vi ho detto oggi molto spesso vengono usate le 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 macchine fotografiche soprattutto le mirrorless sono in grado di lavorare bene con un exposure index cioè gli ISO della pellicola che vanno tra 160 e 2560 chi di voi è un po' pratico di fotografia si renderà conto che sono numeri esorbitanti per esempio lo standard è 800 quindi questo significa che sono in grado di fotografare di scattare di girare anche in condizioni di bassa luminosità o perfino non dico di buio ma comunque con poca luce poi i sensori sono da 12 bit ok di latitudine quindi da 12 bit e quindi abbiamo una latitudine di posa potenzialmente molto elevata ok naturalmente in formato RAW poi questo è un formato quindi vedete 2880x1620 questa slide è un po' vecchia oggi c'è il 4K ok e c'è anche di più del 4K e poi possono anche funzionare a 120 frame al secondo perfino di più per effettuare gli effetti di slow motion notate che una parte consistente di tutte queste caratteristiche si può ritrovare anche solo banalmente all'interno di uno smartphone moderno che ha molto spesso delle caratteristiche interessanti però la parte che secondo me interesserà di più a coloro che fanno l'ingegneria del cinema è questa allora questo allora questa è una scena specifica da un film in particolar modo il film è mamma mia e questo è l'occhio di Mary Streep ok allora notate che questo è un frame catturato dal DVD quindi un pezzettino di un frame catturato dal DVD catturato ovviamente solo proprio l'occhio e questo è lo stesso occhio in realtà non sono riuscito a trovare esattamente lo stesso frame ma da pellicola e questo è stato scannerizzato con uno scanner per pellicola dalla pellicola ora se ci fate caso vedete che il film proprio dalla pellicola cinematografica se ci fate caso vedete che il film ha una risoluzione nettamente migliore del DVD tuttavia ovviamente questo è un film di parecchi anni fa perché credo che mamma mia fosse del 2008 o giù di lì e quindi sono passati già più di 12 anni ovviamente girato in pellicola oggi credo che nessuno più giri film in pellicola salvo magari casi particolarissimi e quindi in digitale si ricade su queste cose qui con qualità molto maggiore però il DVD vedete che ha dei suoi problemi anche di compressione questo è sicuramente migliore però io mi aspetto comunque che questa pellicola possa avere grosso modo diciamo la qualità del Full HD non di più ok se devo essere sincero quindi un 1920x1080 che ovviamente non è più che buona ma ecco notate che qui ho fatto dei calcoli avevo fatto delle prove e mi venivano fuori da 60 a 70 linee al millimetro ok di di risoluzione volevo ancora però farvi vedere una cosa allora ecco qui allora aspettate portiamolo di qua ecco questo probabilmente interesserà agli appassionati di ingegneria del cinema questa è una pizza cinematografica che mi avevano regalato tanti anni fa e contiene effettivamente il trailer di mamma mia questo lo buttavano e quindi io ho fatto la spazzatura ecco qua qui dentro ci sono i due fotogrammi che ho usato vedete questi sono i fotogrammi vedete io li ho montati su dei non so se si riesce a vedere adesso cerco di mostrarvelo un po' meglio allora facciamo una cosa ecco uso come sfondo il bianco ecco qui e poi cerco di mettere a fuoco un po' meglio ecco vedete questi sono i frame che io ho vedete io non ho fatto altro che ritagliare un pezzettino da questa pizza sono andato a cercare con pazienza il punto dove c'era un fotogramma ragionevole per estrarre l'occhio di Mary Strip perché io ovviamente non ho mai vista questa pizza non ho modo di vederla e credo che non ci siano ormai più le apparecchiature in giro e dopodiché io l'ho montato su un telaietto per diapositiva così ho potuto proiettarlo con un proiettore per diapositive e vedete che adesso io mi avvicino moltissimo perché la web comunque ha una buona risoluzione vediamo se riesco a vedete questa ovviamente la polvere che c'è sulla sulla pellicola vediamo se riesco a ok vedete che questo è esattamente il fotogramma da cui ho estratto quella ho scannerizzato quel pezzettino ora quello che volevo farvi vedere è che sostanzialmente vedete che è fatto in questa maniera e se ci fate caso questo dovrebbe essere l'audio mi serve per forza un contrasto allora questo vedete dovrebbe essere l'audio poi questo è un frame questo è successivo e qui in mezzo c'è lo spazio per l'otturatore ok per far girare per far scorrere la pellicola come potete vedere il rapporto d'aspetto è molto oblungo ok ed è montato la pellicola normalmente ovviamente si muove per così notate che questa è la pellicola 35 mm infatti questo questo frame è stato montato senza nessun problema su un telaietto per diapositive 35 mm però penso che saprete che normalmente le fotografie scattate con le macchine fotografiche 35 mm sono scattate per così quindi voi capite molto bene che la risoluzione di una fotografia 35 mm è enormemente superiore a questa perché il lato lungo della fotografia diventa il lato lungo della pellicola cinematografica diventa il lato corto ok e quindi c'è una risoluzione molto molto superiore ok ovviamente questo è il lato emulsione e volevo ancora farvi vedere una cosa aspettate un attimo quindi allora ecco vedete che qui per curiosità questi sono altri pezzettini ma non sono così importanti e sempre per vostra curiosità vedete questa è la pellicola nel suo complesso che è ovviamente bloccata ecco qua vedete ovviamente credo che questo sia praticamente un reperto storico perché ormai adesso non lo so però l'ultima volta che sono andato al museo del cinema c'era tutta una quantità di pellicola ammonticchiata in varia maniera adesso però voglio vedere se riesco ancora a farvi vedere una cosa un attimo solo eccoci qua bene allora guardate qua questo è un libro molto bello prendiamo solo una pagina nello specifico ecco qua allora guardate qui vedete questo è riguardo alla pellicola cinematografica vedete questo è il sistema standard di proiezione penso che lo sappiate meglio di me ma non toglie che magari qualcuno di voi non l'ha visto e quindi questo è il sistema che viene usato per proiettare la pellicola vedete questo è l'otturatore ok però quello che volevo farvi vedere è questo e cioè i vari formati di pellicola ok se noi adesso prendiamo il fotogramma di prima e glielo mettiamo a vicino a a in modo tale che si veda vedete ok allora vedete che viene fuori top left quindi questo qui 35 mm silenzioso ok cioè senza senza questo è il 35 mm sound che è esattamente questo vedete che questo è il suono e questo è vedete che qui è abbastanza ben sistemato in uno a uno vedete io lo posso abbastanza ben sovrapporre poi questo qui è il 16 mm muto questo è il 16 mm col suono quindi con la banda sonora poi questo è il 9,5 mm silenzioso 9,5 mm con il suono questo è double run 8 mm che non so cosa sia e questo è il famosissimo super 8 ok da qualche parte io dovrei avere un filmato di quando ero bambino in super 8 ma non so più dove si è andato a finire va bene direi che con questo abbiamo allora torniamo qua quindi questo abbiamo terminato e diciamo che questa è la slide di introduzione dei CCD e CMOS e procederemo nel prossimo nel prossimo blocco grazie